Tanti progetti per una città di Lucca proiettata tra 15 e 20 anni. Sono quelli contenuti nel nuovo piano strutturale che il Comune sta elaborando ormai da molti mesi e che si appresta a sottoporre al Consiglio Comunale. Alcune anticipazioni sono state zelate dall'assessora all'urbanistica Serena Mammini, ospite di Sergio Talenti a Parlando Con, nella puntata che andrà in onda questo sabato alle ore 21. Tra i temi c'è stato spazio per parlare del futuro del manicomio di Vangiano, per il quale il Comune avrebbe un'idea ambiziosa, trasformarlo in una sorta di appendice del carcere di San Giorgio. L'idea era quella che, come dico io, forse è ancora a livello molto di suggestione, però sarebbe quella di una cassa circondariale, di un nuovo progetto pilota importante di recupero per detenuti. Legato all'agricoltura. Andando al centro storico, l'assessore Mammini ha ribadito il suo interesse per il progetto avanzato qualche mese fa da Alessandro Sesti, cioè realizzare un anfiteatro all'aperto nel giardino di Piazzale San Donato. Cioè lavorare sull'esterno perché si presterebbe benissimo ad essere un teatro all'aperto. Sui tempi del piano strutturale ancora non ci sono certezze assolute, ma l'assessore Mammini punta dritta alla presentazione entro la metà di dicembre. Il piano è pronto, deve essere rivisto in alcune parti anche a livello di commissione urbanistica, però ci siamo.